no no questo è bello va va vieni questa parte occhio a quella canna nel mezzo un altro pesciolino con Shimano c'è il più potente questa si gira subito si piega scusa piccolo per l'altro che salta gioia lake arrabbiatissimo ora inizio come tira mamma mia che bestia che è mamma mia mamma mia che bestia ha smonso dieci litri da non sembrano grandi scimi prima volta o grosso pesce e due a me sembra più grosso però la testa è più grossa se ne vuole andare se ne vuole andare povera bestia ora si stacca questo madonna che bestione questo è più grosso porca boia mi ha bagnato bellissimo lago bellissimo lago bellissimo lago ti serve la corda ti serve forse la corda per tirarlo su questo è 100 kg non manca è più grosso molto più grosso c'è una testa guarda come ha mangiato perfetto no questa è più grosso eh sì è più grosso sì è uno squalo porca miseria ti serve la corda o ce la fai così come fai nemmeno con due mani lo tiri su questo è enorme questo è enorme è lungo due metri è lungo due metri quasi anzi tiralo su è lungo come tutto il tappetino dove ce l'ha mamma mia che squalone occhio che il tappetino è lungo due metri è lungo due metri di pesce vai mi dai il candela vai libera questo ti fa il bagno vai vai bella bello ma che meraviglia bello bella belli ciao e due è lungo due metri Grazie a tutti.